Fermi tutti perché venerdì pomeriggio e sabato, quindi venerdì pomeriggio il 10 e tutto l'11, c'è un super outlet, ma abbiamo fatto un super outlet non normale, top qualità. Ora vi racconto, anche con una promo, abbiamo inserito 500 capi tra cappotti, giacconi, maglieria bellissima, di Marello, Ottodame, Guess, ADD, insomma, tutte le aziende che abbiamo noi. Tutti fine serie e in più c'è una promo. Intanto vi faccio vedere qualche capo per farvi capire. Allora, questo cappotto di Ottodame, sono rimasti due pezzi, ve lo faccio vedere perché è stupendo, veniva 359 euro e passa a 190 euro prezzo outlet. Ce ne sono due, poi, ad esempio, giaccone ADD, veniva a 529 euro, viene 230 euro al prezzo outlet. Maglieria di Caos, veniva a 107, va a 45 euro. Giacchino di ecopelle di Marella, questo viene, veniva, ve lo dico, 199, va a 89. Sono capi, questi sono solo alcuni, ma di questi 500 ce ne sono. Ma qual è la promo? Allora, la promo è così fatta. Per chi acquista da 3 a più capi outlet, il prezzo più basso che avrete acquistato verrà scontato del 50%. Ora vi faccio un esempio. Ad esempio, io scelgo questo cappotto meraviglioso, che veniva a 359 euro e va a 190. E poi scelgo questo gilet bellissimo in lana di Maria Bellentani, con il collo alto da mettere con la camicia, fantastico, che veniva a 85 euro e va a 49 euro. E poi acquisto, insieme a mio compagno, a mio marito, da uomo, comunque, magari un bel capo, questo gilet della Jack & Jones, che veniva a 79,90 euro e va a 49 euro. E qui avresti speso, senza l'outlet, 523 euro. Con gli sconti outlet, 288 euro, ma acquistando 3 capi, il più economico, viene scontato del 50% e risparmiate altre 24,50 euro. Per cui, acquistando questi 3 capi, se venite venerdì o sabato, risparmiate 260 euro. Io verrei. Vi posso fare un altro esempio, perché l'outlet c'è da uomo, da donna e da bambino. Potete acquistare 3 capi uomo, 3 capi donna, 3 capi bimbo, non importa, no? Per avere questo sconto del 50%, per chi acquista da 3 o 4 capi, vi faccio un altro esempio. Allora, questa maglia di Maria Bellentani, stupenda, con la manica a palloncino, è una viscosa, e questa qui veniva a 119, va a 59 euro. 8 dame, 8 dame, un maglioncino di lana, col collino alto, bellissima questa riga col cammello e il nero, e il bordeaux, veniva 102, va a 59 euro. E poi ho trovato questo bel giacchettino di Napapiri, Renforest, mitico, che veniva, ve lo dico, che non me lo sono segnato, 129 euro, 59 euro. Quindi 3 capi outlet, avrei speso a prezzo pieno 350 euro, prezzo outlet 177 euro, ma avendo acquistato 3 capi, voi avrete un ulteriore 29,50 centesimi di sconto. Per cui risparmiate su 3 capi 202,50 euro, io ci vedrei all'outlet. Mi raccomando che i capi sono pochi, sono di alta qualità, e quindi vi consiglio di venire prima possibile, perché come si dice noi, chi prima arriva meglio sceglie. Vi aspettiamo da venerdì pomeriggio fino a sabato sera, con questa promo e queste occasioni imperdibili. Credetemi, ciao!